Siamo in compagnia di Guglielmo Loi, segretario confederale UIL. La UIL ha proposto un modello per la contrattazione collettiva. Come si può equilibrare redditività delle imprese e garanzie per i lavoratori? Mantenendo saldi due livelli contrattuali, lo diciamo con nettezza, ma certamente prendere atto che la maggiore competitività delle imprese passa attraverso un'organizzazione del lavoro, una maggiore produttività che deve vedere la contrattazione aziendale avere un ruolo significativo. Ma milioni di persone hanno bisogno di tutele essenziali, di livelli delle prestazioni, un salario decoroso e questo lo può regolare solo il contratto nazionale. Quindi disponibilità ad allargare la funzione del contratto aziendale, a dargli più forza, ma mantenendo un principio che ci devono essere regole e tutele uguali per tutti i lavoratori del settore ed è il contratto nazionale che può svolgere questa funzione. Allora, l'obiettivo è la crescita, ma la ricchezza deve essere distribuita per tutti. Ma insomma questo paese è cresciuto fino a qualche anno fa in maniera importante includendo nel mondo del benessere milioni di persone. Questo è avvenuto perché comunque a tutti i lavoratori venivano dati salari decorosi, tutele essenziali, prestazioni importanti anche dal punto di vista del welfare. L'idea che si possano separare i destini di lavoratori dell'impresa A, da quella B e quella C, significa nel tempo creare quel dislivello sociale, cioè quelle differenze che non fanno bene al paese, all'economia e ovviamente ai lavoratori stessi. Quindi l'importante è che la crescita abbia un effetto in parte positivo anche sui lavoratori, cioè la ricchezza che si produce in più deve essere in parte data ai lavoratori in sostanza. Un altro tema importante è il ricambio generazionale anche alla luce dell'innovazione tecnologica. Sì, il settore ha un'esperienza importante perché ha consentito l'accompagnamento di moltissimi lavoratori in maniera indolore verso la pensione. Adesso bisogna fare un salto di qualità, favorire l'ingresso di altre persone. C'è anche qua un'esperienza importante che è il Fondo per l'Occupazione. Se il governo fa qualcosa di più e ci mette qualcosa in termini ad esempio di contributo per i contributi figurativi, si può favorire quel ricambio generazionale necessario perché l'innovazione tecnologica comporterà il bisogno di professionalità che oggettivamente molti ragazzi e ragazze hanno già per il loro percorso di studi e per la loro esperienza dal vivo. L'innovazione tecnologica imporrà il favorire il ricambio generazionale.